Il mio esercito Guarda che ti faccio con internet e mille sms Per lasciare un segno nella storia ci vuole altro Te la posso sul tuo facebook? No, meglio su quello di Mazzini Passate in con Timiani e hai sms e internet e chiamate verso un numero team A 6 euro al mese per 2 anni